Una volta c'è un po' la percezione che l'innovazione sia quasi un lusso, qualcosa che non tutte le aziende si possono permettere, è vero? Diciamo che questo va sfatato. Chiaramente bisogna pensare sempre a delle risposte di un mercato che è in evoluzione. Il come fare, se non ci appoggiamo alle varie tecnologie, direi che noi abbiamo vissuto un po' in questi anni un'era in cui bastava produrre di tutto che funzionava, per cui era un prodotto seriale. Oggi siamo a un prêt-à-porter, un prodotto seriale sì ma fortemente personalizzato. Stiamo andando quasi al sartoriale, alcuni mercati specialmente quelli che hanno un potere d'acquisto differente non vogliono più delle cose standard ma vogliono una forte personalizzazione. Tutto questo per contenere i costi, la risposta è le nuove tecnologie. Senza di queste non riusciremo a soddisfare per i tempi la qualità e i costi questo tipo di mercato che si sta evolvendo.